L'appello al cessate il fuoco rivolto ai capi di stato e di governo che prenderanno parte ai lavori del G7 nel Brindisino parte da San Vitore Normanni che nel 1901 diede i Natali al filosofo e scrittore Giuseppe Lanza del Vasto, uno dei profeti più significativi del pacifismo che nel 1937 durante un viaggio in India conobbe il Mahatma Gandhi, ne divenne discepolo ricevendo poi l'appellativo di servitore della pace. Il testo del messaggio deliberato dall'Aggiunta Comunale guidata da Silvana Enrico è stato consegnato al prefetto Luigi Carnevale e al Vescovo Giovannintini affinché arrivi anche al Pontefice. Fare voti perché i grandi della terra presenti al vertice del G7 in programma tra Brindisi e Borgognazia dal 13 al 15 giugno si impegnano in maniera concreta in ogni possibile tentativo finalizzato al perseguimento di una pace giusta che dirima i conflitti in corso utilizzando mezzi pacifici per risolvere ogni controversia, si legge nel testo. La decisione dell'esecutivo cittadino arriva dopo il passaggio nella conferenza dei capigruppo consigliari ed è nata dalla necessità di dover far levare proprio da questa terra un grido forte di pace che risuoni come un impegno concreto che chi governa le sorti del mondo deve solennemente assumere, soprattutto perché, si legge ancora nella delibera, San Vito dei Normanni è da sempre terra di pace ed impegno per il perseguimento della stessa. Fin dal medioevo, infatti, è stato il luogo di ricerca concreta di questo bene prezioso, ospitando nelle sue contrade, presso l'insediamento rupestre di San Biagio, i monaci basiliani che fuggivano dalla furia iconoclasta. A Brindisi, per invocare la pace, l'ex sindaco Riccardo Rossi, attuale consigliere comunale di opposizione, ha proposto di esporre una bandiera della pace sui balconi il 13 giugno. Un gesto simbolico spiega per dire che la gente questa terza guerra mondiale non la vuole e che a Brindisi non si deve discutere di armi e di uso di missili a lunga gittata. E chiedere, aggiunge, che si lavori per costruire la pace in Ucraina, così come a Gaza e ovunque nel mondo. Un piccolo gesto che potrebbe fare rumore.